Signore ti chiediamo di usare questo momento per la nostra crescita personale in te, per la crescita della Chiesa, che possiamo capire meglio come reagire al mondo intorno a noi che sta cambiando, a queste nuove idee che stanno cercando anche di entrare dentro la Chiesa, che possiamo combattere con la tua parola, ricordarci della tua santità, della tua guida, delle tue regole che tu hai dato a noi anche per il nostro bene. E chiediamo questo nel tuo nome. Amen. Abbiamo passato del tempo insieme parlando a voi del concetto biblico dell'amore, del sesso e del matrimonio. E questa sera voglio passare del tempo insieme a voi per pensare di nuovo a come possiamo parlare alle persone. Come possiamo pregare a queste persone che sono omosessuali. ma per fare questo ho bisogno che voi pensate assieme a me di alcune cose che noi dobbiamo riuscire a superare. Quindi vorrei cominciare con alcuni miti che sarebbe buono che noi esaminassimo. Mito numero uno. La relazione sessuale tra persone dello stesso sesso è il peggiore peccato che mai è esistito. Non è vero. Quindi il rapporto sessuale tra persone dello stesso sesso è peccato. Rapporto sessuale-eterosessuale al di fuori dei limiti che ha posto Dio è anche peccato. Siete con me? E quindi per alcuni di noi pensare al rapporto sessuale tra due persone dello stesso sesso ha quasi un fattore di schifo. Cioè proprio non mi piace. Personalmente lo trovo repulsivo. E io non combatto con questo peccato. Quindi è facile per me pensare che il rapporto sessuale-omosessuale è il peggior peccato che ha mai esistito. Ma non è vero. Le persone che partecipano in un rapporto sessuale tra persone dello stesso sesso sono persone che hanno bisogno di Gesù quanto a me. Persone che devono essere salvati dal loro peccato e persone che devono conoscere la grazia del nostro Signore Gesù. Il peccato è peccato. E quindi non possiamo guardare verso queste persone con odio e dobbiamo vederle nello stesso modo in cui vediamo altre persone che peccano. Odiamo il peccato ma compassione verso quella persona. Il mito numero due Tutte le persone gay sono uguali. Anche questo non è vero. Ognuno ha delle lotte diverse. Ognuno ha delle domande diverse. Ci sono alcuni che stanno lottando con il modo di capirsi. Ci sono alcuni che non vogliono partecipare in questo stile di vita. Non ogni persona gay è lo stesso. Come tutte le persone che non sono omosessuali non sono gay sono diverse. Noi possiamo sapere solamente dove è una persona particolare omosessuale essendo presenti nella loro vita ascoltandoli mentre cerchiamo di condividere il Vangelo. Adesso vi do un altro mito. La Chiesa non è un luogo sicuro. Il problema con questo è che a volte è stato vero. se io sto lottando con la mia sessualità le persone religiose esprimeranno il loro odio verso di me non trovo il mio posto nella Chiesa la Chiesa non accetta il mio modo di vivere quindi mi tratteranno in modo orribile e quindi non è sicuro per me andare a parlare con le persone nella Chiesa questo non deve essere vero. Noi sentiamo dolore per alcuni nostri amici che partecipano in questa vita omosessuale non significa che possiamo accettare uno stile di vita omosessuale come moralmente giusto ne abbiamo già parlato stamattina e Dio dice che è sbagliato ma possiamo comunque amare le persone non c'è niente che puoi fare non c'è niente che puoi dire che farà sì che io smetta di amarti ci possono essere dei peccati che fanno sì che è impossibile per me avere comunione con te in Cristo ma non significa che ho smesso di amarti e così continuerò a cercare di parlare la verità con te e quindi la Chiesa deve essere un luogo sicuro dove persone possono continuamente sentire la verità con la grazia e con l'amore prima che ci sia un fraintendimento devo essere sicuro che capite questa cosa la disciplina biblica nella Chiesa per quelli che continuano nel peccato e non hanno pentimento quando la disciplina della Chiesa è fatta in modo corretto è un atto d'amore un atto d'amore è come l'ultimo stop il segnale dello stop che abbiamo come famiglia della Chiesa che dice stai intraprendendo la strada sbagliata fermati rigirati per la gloria di Dio e per la tua benedizione questo è l'amore della disciplina nella Chiesa quindi la Chiesa deve essere un luogo sicuro dove si può esprimere l'amore è un altro mito in qualche modo abbiamo accettato quest'idea che se reprimiamo i vostri desideri sessuali e venire detti che dovete reprimere questi desideri sessuali è una cosa oppressiva ma questi sono i limiti che ha messo Dio in modo che noi possiamo funzionare coperti dal suo ombrello ombrello dove ci provvede per noi e ci protegge noi insegniamo ai nostri figli di reprimere i loro desideri sessuali per la gloria di Dio non vogliamo che i nostri figli partecipano in relazioni sessuali finché non sono sposati perché noi crediamo che è la cosa migliore per loro una cosa buona la cosa migliore per loro aspettare finché non sono sposati per ragioni fisiche emotive e psicologiche anche spirituali non vogliamo che i genitori abbiano relazioni sessuali con figli e chiediamo di reprimere qualsiasi desiderio sessuale che potrebbero avere in questo modo quindi se parliamo di rapporti sessuali che vanno al di fuori della volontà di Dio e l'omosessualità è questa quindi il nostro comunicare che devi fermare l'uso del tuo desiderio sessuale non è una cosa che opprime ma è una cosa che dimostra amore lo capite? noi vogliamo quello che è meglio per te non vogliamo che ti accetti una cosa sostituta di poco a vuoi lavore e non vogliamo che partecipi in qualcosa che ti porterà del male è l'altro mito che vorrei menzionare dire a una persona omosessuale vieni a Gesù e lui ti renderà etrosessuale senza nessun problema senza una lotta questo potrebbe non essere vero per alcuni Dio ha dato una grazia unica dove è successo così ma per molti questa lotta continua forse alcuni di voi seduti qua che avete accettato Gesù come vostro Signore e vostro Salvatore eppure ancora lottate desideri etrosessuali che sono al di fuori della volontà di Dio quindi se questi desideri etrosessuali al di fuori della volontà di Dio non sono stati levati da voi immediatamente non potete pensare che anche i desideri omosessuali spariscono immediatamente dobbiamo camminare con fratelli e sorelle in Cristo che veramente vogliono dare tutta la propria vita a Gesù e il Vangelo richiede questo che la tua capacità sessuale sia sottomessa alla Signoria di Cristo se è omosessuale o eterosessuale o eterosessuale quindi abbiamo degli ostacoli da superare in noi stessi e questa è stata la mia esperienza Gesù Gesù parlava di levare un pulviscolo dall'occhio di qualcuno quando tu hai una trave che esce dal tuo occhio noi riconosciamo noi riconosciamo il peccato dell'altra persona abbiamo difficoltà a riconoscere il nostro quindi vorrei parlare con voi di alcune di queste travi che potremmo avere la prima trave è quella di sentirsi superiori io sono moralmente superiore a te io non partecipo nelle attività omosessuali e quindi tu mi fai schifo io invece sono messo abbastanza bene perché almeno non sono male quanto te non è buffo quando vogliamo stare sentirci meglio di noi stessi possiamo sempre trovare la vita di qualcun altro che è peggio di chi è l'immagine alla quale noi dobbiamo essere conformi solo uno noi ci paragoniamo al nostro Signore Gesù quindi non c'è spazio per l'arroganza e quindi quando noi siamo arroganti nella nostra moralità stiamo cercando di rubare la gloria di Dio guarda a me e quello che io riesco a fare io sono buono tu non lo sei ma nessuno di noi è buono solo Dio non rubiamo a Lui la gloria e riconosciamo che tutto quello che noi siamo e tutto quello che noi abbiamo viene dalla grazia di Dio ecco tutto quindi parliamo di questa trave della negazione è molto simile al primo questa trave della negazione significa che abbiamo difficoltà a chiamare il nostro peccato quello che è veramente siamo siamo molto capaci molto bravi a dare altri nomi ai nostri peccati forse a trovare delle scuse per i nostri peccati no pastore tu non capisci io l'ho fatto per questo motivo io ho partecipato per questo motivo e diventiamo anche creativi ma non cambia il fatto che quello che facciamo è peccato almeno nove volte su dieci tu e io sappiamo quando stiamo partecipando nel peccato siete d'accordo con me in questo? quasi sempre noi sappiamo quando stiamo peccando dobbiamo essere attenti a non vedere questo desiderio sessuale eterosessuale che sia una cosa divertente nella nostra vita oppure anche nell'intrattenimento che noi guardiamo mentre allo stesso modo vediamo questo desiderio omosessuale come un'abominazione verso Dio il peccato è peccato parliamo adesso della trave dell'odio è solo una piccola percentuale della popolazione che è omosessuale l'uno o il due per cento sembra stupefacente eppure sembra che loro viene dato il palco per parlare quando vogliono dove vogliono e sembra che riescono a disfare le leggi e anche il nostro pensiero sulla natura che sono state fisse per tutta la storia umana e quindi è facile diventare arrabbiati e se non facciamo attenzione potremmo arrabbiarci non solo verso il peccato appunto che odiamo non solo il peccato ma cominciamo a odiare le persone forse sono l'unico che ha mai lottato con questo ma non penso quando sembra che vincono questa guerra culturale il mio cuore si trova tra l'essere arrabbiato e l'essere triste della grazia di Dio vuoi continuare a odiare quello che Lui odia perché porta danno alle persone il peccato porta danneggia le persone il peccato separa le persone da Dio eppure voglio mostrare compassione verso il peccatore perché Dio ha mostrato compassione verso di me parliamo della trave della paura qualche volta abbiamo paura di cominciare queste conversazioni queste persone possono avere molta forza nel loro parlare non sono sempre sicuro di quello che dovrei dire a volte penso magari che noi pensiamo che non abbiamo abbastanza da dire a queste persone ma questo non è vero possiamo parlare dell'intenzione buona che Dio ha avuto nella sua creazione questa non è arroganza questa è grazia è amore vi voglio incoraggiare che qui c'è una certezza teologica alcune volte penso che noi abbiamo paura perché non siamo sicuri se è veramente così ed è questo motivo per il quale ho insegnato stamattina quello che ho insegnato la Bibbia è chiara su questo argomento quindi quando senti quella paura voglio che ricordiate sempre questo Dio è più grande Dio è più grande di qualsiasi persona di qualsiasi cosa da quando i miei bambini erano piccoli ho sempre detto questo a loro mentre vai a scuola oggi devi portare rispetto verso tutte le persone ma non temere nessuno e questo è anche quello che la Chiesa deve essere rispetto e amore verso tutte le persone ma non temere nessuno è più grande colui che è in noi colui che è nel mondo quindi la trave della mancanza di fede io penso che alcuni di noi abbiamo il dubbio sul fatto che Dio può cambiare queste persone penso che alcuni di noi hanno il dubbio che Dio possa cambiare questo peccato non dovete mai mettere limiti su Dio e lui mi ha salvato da essere un suo nemico e ha fatto la stessa cosa per voi e lui può fare la stessa cosa per queste persone guardiamo insieme primo corinzi 6 versettina 9 a 11 primo corinzi 6 da 9 a 11 non sapete che gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio non vi illudete né fornicatori né idolatri né adulteri né femminati né sodomiti né ladri né avari né ubriachi né oltreggiatori né rapinatori erediteranno il regno di Dio e tali eravate alcuni di voi ma siete stati lavati siete stati santificati siete stati giustificati nel nome del Signore Gesù Cristo e mediante lo spirito del nostro Dio alleluia alleluia tali eravate alcuni di voi ma siete stati lavati siete stati santificati e siete stati giustificati nel nome del Signore non c'è nessun motivo per cui non possiamo avere fede non solo Dio può cambiare queste persone non solo Dio può cambiare questo peccato ma l'ha già fatto nel passato e lo fa nel presente io l'ho visto nella mia chiesa a Calvary Baptist Church a Dio sia la gloria parliamo della trave di un cuore duro è facile per noi non avere più compassione ma allo stesso tempo dobbiamo avere compassione per quelli che veramente stanno nel bel mezzo di una lotta questo è un tipo di peccato che rende prigioniera un'intera vita alcuni di voi avete sperimentato questo tipo di peccato e siete grati per un fratello e una sorella in Cristo che hanno mostrato compassione verso di voi e quindi dobbiamo mostrare compassione per quelli che sono in questa battaglia avere amicizia o avere comunione con credenti eterosessuali fedeli è assolutamente necessario per coloro che saranno redenti che saranno salvati da un stile di vita omosessuale loro devono vedere quello che rapporti buoni che danno onore a Dio sono e dovrebbero essere e molte persone che praticano l'omosessualità vengono da rapporti rotti famiglie separate e molti di loro non hanno mai avuto rappresentato a loro quello che un buon rapporto dovrebbe essere seguaci di Cristo devono poter rappresentare questo a loro ancora un'altra trave è l'aver paura di affrontare non voglio essere coinvolto in questa conversazione è una situazione dove non vince nessuno e ogni volta che ne parlo di questo a Grand Rapids sarà un problema per me creerò un problema e-mail e-mail text messaggi personal conversations with people coming up che puntano il dito nella chiesa un po' nella città ogni volta ma è troppo importante per non affrontarlo se veramente amiamo i nostri vicini come noi stessi non possiamo così lasciarli stare dobbiamo esprimere amore con le nostre vite e le nostre parole come abbiamo detto questa mattina negli Stati Uniti penso in qualche modo questo è l'elemento centrale importante oggi nel 2018 dove Satana ha scelto di attaccare il proprio Vangelo di Cristo quindi se io parlo di tutt'altro e non parlo invece di questo soggetto che Satana sta usando di più in questo momento allora non ho un ministero fedele verso il Vangelo e quindi ne parlo e quindi chiedo a voi di unirvi a me e parlare agli altri anche di questo quindi come possiamo parlare con le persone voglio darvi dei principi di base fondamentali che potete considerare è possibile che questi principi non saranno mai espressi ma continueranno ad essere le fondamenta per le nostre parole principio numero uno dobbiamo accettare che Dio ha il diritto di dichiarare quello che è giusto e quello che è sbagliato tutto il popolo di Dio lo afferma lui ha il diritto di dichiarare quello che è giusto quello che è sbagliato perché lui è il Dio che ha creato ogni cosa lui ha creato tutto per la sua gloria e per la nostra crescita lui sa cos'è meglio per l'umanità la moralità si basa sulla personalità e sul carattere di Dio stesso e quindi è il Dio creatore che può dichiarare quello che è giusto e quello che è sbagliato il Dio redentore può dichiarare quello che è giusto e quello che è sbagliato perché Dio ha mandato il suo unico figlio per disfare gli effetti del peccato fino a dove c'è questa maledizione anche nella sessualità umana e come abbiamo utilizzato questa sessualità umana in modi che Dio non ha mai voluto e ringraziamo questo Dio redentore per questo quindi per noi la domanda è questa qual è la tua identità di base non viene dalla cultura ma viene dal fatto che siamo nuove creature in Cristo Gesù quindi Dio può dichiarare quello che è giusto quello che è sbagliato principio numero due dobbiamo capire perché il sesso è così importante ne abbiamo parlato questa mattina vi voglio ricordare che il sesso coinvolge tutto il nostro essere fisico psicologico spirituale fisico psicologico spirituale emotivo intellettuale Dio ha creato l'unione sessuale sia come cosa che porta a piacere che è una cosa molto profonda e quindi lo scopo e l'obiettivo di Satana è di rendere il sesso una cosa per la quale non era voluta di diventare una cosa solo fisica che quindi zero livello profondità zero quindi fisico ma non un'intimità reale doloroso invece che portare piacere non una cosa seria anzi una cosa comica dove si fanno le barzellette e fino ad arrivare a un atto che porta alla schiavitù per gli idolatri Satana ha cercato di disfare tutto ciò che era buono per quanto riguarda questa unione sessuale per il matrimonio per un uomo e una donna principio numero tre dobbiamo ricordare che andare contro i comandamenti di Dio porta alla schiavitù e non alla libertà quindi abbandonare i limiti è pericoloso quindi vivere entro i limiti dei comandamenti di Dio dei suoi precetti non vuol dire essere rinchiusi è quando siamo veramente liberi che possiamo che possiamo gioire della vita godere della vita come Dio ha inteso principio numero quattro dobbiamo amare le persone con l'amore di Cristo tutto qua un amore che è consistente col carattere di Dio un amore che segue i suoi comandamenti dobbiamo amare le persone con questo tipo di amore quindi in tutto questo dobbiamo capire anche i nostri problemi che dobbiamo affrontare persone diverse che forse richiederanno conversazioni diverse e non sappiamo finché non parliamo con loro e finché non li ascoltiamo quindi potete cominciare in questo modo pregate 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 Signore ho bisogno dello Spirito Santo che possa guidare la mia mente per ascoltare bene devo sapere quando parlare invece quando essere in silenzio e quando parlo devo sapere anche cosa dire e come parlare se vogliamo parlare nella vita o verso la vita di un uomo sessuale dobbiamo essere presenti questo è vero per qualsiasi persona possiamo pensare di parlare a tante persone ma non parleremo con nessuno se non siamo presenti con loro dobbiamo essere presenti e far vedere che siamo preoccupati e poi dobbiamo ascoltare date più tempo all'ascoltare rispetto a quello che usate per parlare e specialmente all'inizio di queste conversazioni questo sarebbe buono per noi fare sempre in probabilmente tutte le nostre conversazioni questo era un consiglio matrimoniale gratuito quando hai pregato quando tu sei lì presente quando hai mostrato che sei preoccupato e mentre ascolti cominci a fare delle domande che possono piantare dei semi di dubbi vuoi fare delle domande che portano quella persona omosessuale a chiedersi ma ho veramente ragione ho veramente ascoltato tutte le due possibilità voglio così tanto fare la mia cosa che non ho nemmeno voluto pensare come questo potrebbe portare del male quello che io dico qua non è una promessa che le persone saranno pronte a ricevere la vostra comunicazione ma se ricevono questa comunicazione da voi sono più probabili di farlo se voi fate delle domande quindi per una persona o delle persone eterosessuali che simpatizzano con lo stile di vita omosessuale possiamo mandare via o proteggerci da questa accusa che siamo omofobici con domande di questo tipo hai mai sentito una prospettiva sull'omosessualità che non era né pro gay e nemmeno omofobica hai mai sentito una prospettiva sull'omosessualità che né affermava lo stile di vita omosessuale ma non aveva nemmeno l'omofobia la maggior parte delle persone direbbero di no non l'ho mai sentito tu hai l'opportunità di affrontare questa conversazione con amore tu non mi stai attaccando non so cosa farci tu non sei omofobico ma allo stesso tempo non sostieni non vuoi portare avanti il mio stile di vita e quindi gli stai mostrando un tipo di conversazione molto diverso ecco un'altra domanda hai mai conosciuto qualcuno che ha lasciato lo stile di vita omosessuale quasi tutti direbbero di no conosco delle persone che hanno lasciato lo stile di vita omosessuale e se tu non lo hai non lo sai quando torno negli Stati Uniti vi manderò dei titoli di alcuni libri che condividono delle storie di persone che sono state redenti da questo stile di vita omosessuale e hanno dato sottomesso a loro capacità sessuale a Gesù perché hanno abbracciato il Vangelo così anche voi potete condividere queste storie perché molte persone pensano che lo stile di vita omosessuale è una cosa che non si può lasciare perché è quello che io sono ma questo non è vero in Cristo Gesù ricordate le parole di 1 Corinthians 6 così eravate alcuni voi ma non in Gesù Cristo siete stati lavati santificati e giustificati a Dio sia la gloria un'altra domanda voi pensate che qualcuno può essere cambiato dall'essere eterosessuale diventare omosessuale interessante la maggior parte delle persone direbbe di sì quindi fai la domanda e mori inverso quindi nell'altra direzione qualcuno può cambiare da omosessuale a eterosessuale fai delle domande per piantare questi semi che sono dei dubbi ma se persone possono cambiare dall'uno all'altro perché non possono cambiare da quello a questo forse non sono non è giusto al 100% quello che penso molte volte faccio questa domanda mi hai chiamato omofobico cosa significa per te l'omofobia e poi ascolto loro a quel punto lottano con quello che può significare per loro l'omofobia poi faccio quest'altra domanda è possibile che qualcuno pensi che l'omosessualità non è una cosa buona ma allo stesso tempo non essere una fobia nel mio interagire con voi o con te hai visto che ho paura o ti temo hai visto che ti odio eppure io ti dico che l'omosessualità non è la cosa migliore per te quindi dobbiamo riuscire a capire quello che significa veramente l'omofobia non ho paura di te non ho paura del tuo stile di vita non ti odio ma sono assolutamente convinto che il tuo stile di vita non dà piacere a Dio e non è buono per te e quindi un'altra domanda più soft è possibile che l'omosessualità non è una cosa così buona come tutti pensano come tutti dicono ho tanta esperienza nell'affrontare questo argomento e a seconda della risposta che viene data ci sono tanti problemi di cui si può parlare io non ho avuto il tempo di fare una ricerca specifica sull'Italia ma so che ci sono dei paesi in Europa che hanno seguito l'associazione psicologica americana e il loro modo di vedere l'omosessualità quindi in America vi faccio questa domanda sai perché l'associazione psicologica americana ha cambiato il suo modo di vedere l'omosessualità era sempre considerato un problema psicologico ma a motivo dei soldi e delle proteste che sono stati costretti a riscrivere la propria definizione dell'omosessualità e non perché c'era un motivo scientifico dell'evidenza scientifica per fare questa modifica e questo è un pensiero potente per alcune persone importante se vorrei parlare con voi di affrontare un altro tipo di persone questi sono i nostri amici non credenti che sono gay è sempre meglio se possiamo guidare la conversazione verso il Vangelo e lontano dal sesso non è facile ma è meglio se possiamo fare così farò domande tipo ma pensi spesso alle cose spirituali e voglio ascoltare voglio vedere se hanno ancora delle connessioni collegamenti se hanno un senso della moralità hanno un'idea di chi è Gesù un'idea di Dio o qualcosa tipo Dio nella loro vita quindi hai avuto modo di pensare alle cose spirituali è un'altra strada che prendo in relazione alle difficoltà la rottura che c'è in questo mondo ti viene mai in mente che le cose non sono come dovrebbero essere? ogni singola persona alla quale ho mai fatto questa domanda ha detto di sì io credo che le cose non sono come dovrebbero essere questa è una domanda che funziona e dopo che affermano che le cose non sono come dovrebbero essere io chiedo se è veramente così sei d'accordo con me? mi sembra naturale dire che c'è un modo in cui le cose dovrebbero essere vedete come è cambiato? se le cose non sono come dovrebbero essere allora c'è un modo in cui le cose dovrebbero essere e da dove viene quello? da dove viene da dove viene quel credo che c'è un modo come dovrebbero essere le cose viene anche dalle persone peccaminose lontane da Dio che ancora hanno l'immagine di Dio e noi puntiamo a questo solitamente a quel punto chiedo posso condividere la mia storia nel contesto della storia di Dio così tu puoi ascoltare e sentire come io ho sentito come dovevano essere le cose e a quel punto ho l'opportunità di condividere la pienezza del Vangelo per altri potrei fare la domanda ti chiedi mai della vita dopo la morte? anche questo ci porterà ad avere quelle conversazioni sul Vangelo la lista continua ma quando si parla della loro omosessualità i tuoi pensieri e le tue domande potrebbero includere alcuni questi pensieri di nuovo hai mai sentito le persone le quali hanno cambiato il loro orientamento sessuale? no posso condividere alcune di queste storie con te? sei aperto ad ascoltare altre prospettive sull'essere gay se la risposta è no assolutamente no allora lì finisce la tua conversazione non puoi costringere le persone ad ascoltarti ma si dicono sì ma allora a quel punto devi essere pronto a condividere con loro un'altra prospettiva sull'essere gay una prospettiva biblica piena di amore che parla del meglio che Dio vuole per l'umanità potrei fare questa domanda posso raccontarti qualcuno che ha risolto il suo essere gay che non solo hanno risolto il loro essere gay ma anche la loro cristianità in un modo che tu potresti trovare interessante e riesco a parlare a quel punto della sottomettere la capacità sessuale a Cristo Gesù e qui un'altra domanda importante che faccio a molte persone secondo te ci potrebbero essere delle cose più importanti rispetto alla tua identità sessuale troverai che molti omosessuali usano l'omosessualità come quella cosa che li identifica io sono prima di tutto omosessuale più che maschio o femmina credente non credente più importante del colore della mia pelle io sono omosessuale sfida non pensi non pensi che ci potrebbe essere qualcosa di più importante della tua identità sessuale questo farà partire nel loro cuore e nella loro mente delle domande nel tempo che abbiamo voglio parlare di un altro gruppo questi sono non credenti che ancora non hanno pienamente abbracciato la loro omosessualità potremmo offrire alcuni di questi pensieri ci potrebbe essere un modo migliore forse per affrontare questo problema rispetto a quello che dice una rivista che si chiama Out apertamente omosessuale abbiamo questa rivista Out anche in Italia forse non a Perugia questa è una rivista che è apertamente pro-omosessuale che ti dice come vivere il tuo stile di vita omosessuale e molte persone prenderanno la propria guida da questo tipo di informazione ti voglio dare un'altra opzione su come cominciare anche a pensare a queste cose potrei dire qualcosa di questo genere ti potrà sembrare strano pazzo ma alcune persone sono uscite dall'omosessualità e hanno trovato un modo molto migliore per avere rapporti con le persone dello stesso sesso mentre pensi a questo posso raccontare alcune di queste storie a te qui una domanda molto importante che faccio a molti di queste persone che stanno lottando con la propria identità quando ancora non hanno pienamente abbracciato la loro omosessualità chiedo come ti senti per quanto riguarda il tuo orientamento sessuale questa è una domanda molto potente molto forte perché ci sono delle persone che stanno veramente lottando non so sento mi sento in colpa mi viene detto che sono stato creato in questo modo non so se questo è lo stile di vita che scelgo io voglio sapere come quella persona si sente del suo orientamento sessuale perché a quel punto a seconda della loro risposta posso portarli in posti diversi per molti adesso sarà un momento scomodo io dirò questo e vi incoraggio a dire la stessa cosa io ho visto delle cose stupende nella mia vita motivo della mia fede in Cristo Gesù ci sono state dei cambiamenti anche nell'uso della mia capacità sessuali vuoi sentire più di questo se tu ti apri verso questa persona e gli fai sapere che Dio ha liberato te da peccati sessuali anche se sono peccati eterosessuali Dio ha cambiato modificato il mio modo di vivere Dio ha cambiato il mio stile di vita Dio ha cambiato come io vedo il sesso Dio ha cambiato il modo in cui io vedo le donne o per le donne Dio ha cambiato il modo in cui vedo gli uomini non li vedo più come oggetti per la mia gratificazione sessuale li vedo come persone che portano le immagini di Dio e Dio mi ha dato l'opportunità e il desiderio di usare la mia capacità sessuale solamente con mia moglie e la vita non è mai stata migliore questa è una testimonianza forte se tu hai problemi con peccati sessuali non non aver paura di parlare su come Dio ti ha redento dal tuo peccato sessuale aiutali a capire che anche tu riconosci che il peccato eterosessuale è peccato e come tu sei stato liberato da un peccato eterosessuale anche loro possono essere salvati dall'omosessualità infine per quel credente gay questo è ancora più complesso specialmente quando ci sono altri credenti che affermano il loro stile di vita approvano i giovani che hanno lasciato la chiesa a Calvary Baptist Church nel cominciare una vita muore di vita uno stile di vita omosessuale loro sono tranquillamente andati su un'altra chiesa evangelica a Grand Rapids perché ci sono tantissime chiese evangeliche a Grand Rapids e immediatamente erano approvati nel loro stile di vita omosessuale in quelle chiese gli era stata data una posizione di guida e di ministerio che Dio ci possa perdonare ancora oggi vorrei parlare con loro e dico cose tipo forse c'è un modo migliore per affrontare queste attrazioni per la gloria di Dio e per la tua salute c'è un modo migliore posso condividere questo con te? sei sicuro che hai ascoltato pienamente entrambi le facciate di questa storia o mio figlio sei sicuro assolutamente certo che hai ascoltato pienamente entrambi i lati sei disposto ad ascoltare un ultimo appello un appello che racconta qual è l'intenzione buona di Dio per quanto riguarda la sessualità umana che la tua vita possa essere conforme a quella invece che è una cosa molto diversa vi ricordo che per una credente che ha queste attrazioni con persone dello stesso sesso un'amicizia di lunga durata con qualcuno che non ha questi problemi dove lotta con questa attrazione con una persona dello stesso sesso è molto più potente delle parole possono vedere come avere un rapporto sano con persone dello stesso sesso senza avere un rapporto omosessuale e in questo contesto alcune di queste parole potrebbero essere utili faccio sempre sapere avrò cura di te non importa quello che succede e voglio veramente il meglio per te non solo quello che sembrerebbe più naturale per te non solo quello che sembrerebbe più naturale per me da parte di Dio io voglio il meglio per te farò questa domanda ma hai sentito di altri credenti che hanno questa lotta perché molti pensano di essere soli sono l'unico che pensa così sono l'unico che sente così e gli voglio dire no non sei solo hai mai sentito di e poi condividerò alcune di quelle storie di cui ho parlato prima caro tu sei ancora lì dove saresti disposto a pregare con me per quanto riguarda questa lotta ricordate questo che prima di cominciare questa conversazione voi avete pregato 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 perché sappiamo bene che stiamo facendo delle domande cosicché lo Spirito Santo ha modo e opportunità di lavorare nelle loro menti e riportare queste persone di nuovo a Lui preghiamo anche che noi siamo pronti ad ascoltare lo Spirito Santo così di nuovo sappiamo come parlare ascoltiamo le risposte alle nostre domande così sappiamo anche in quale direzione andare per non sprecare energie e non diamo possibilità a loro di diventare arrabbiati in modo non necessario affrontando un argomento che magari non sta nemmeno tra i loro pensieri quindi facciamo questa domanda ascoltiamo e chiediamo allo Spirito Santo di essere pronto a lavorare nel loro cuore e nella loro mente e Dio deve fare tutto il resto del lavoro solo un'altra cosa vorrei incoraggiarvi non affrontare questa persona questo essere umano come un progetto affrontalo con una vera persona che sta cercando un rapporto duraturo e il tuo rapporto con loro deve essere caratterizzato dall'empatia ma anche l'incoraggiamento di camminare fedelmente con il nostro Signore Gesù Cristo così come faremmo con qualsiasi altra persona che è coinvolta in un peccato il lavoro di redenzione è un lavoro sporco persone che sono in schiavitù al peccato hanno bisogno di essere liberati prego che con il vostro capire l'amore biblico il matrimonio biblico e la sessualità biblica che poi potrete dare una voce più forte da parte di Dio a persone omosessuali che hanno disperato bisogno di Cristo e che Dio possa ricevere la gloria mentre voi condividete questo Vangelo